Il commissario ha dato a prima la gara, il commissario Sardinale, assolutamente no. L'indizione sarà fatta con una determina 1941 del 26 settembre 2013 a firma dell'architetto Germano Milano. In quel momento è stato approvato il bando di gara. In quella data è stato approvato il bando, è stato indetta la gara ed è stata nominata la commissione. Quindi, con la scadenza fissata al 13 gennaio 2014, al 26 settembre 2013 è stata indetta la gara. Fino a quella data si poteva fermare tutto. 2013, 26 settembre 2013.